e accumuliamo che usciamo a 30 mila hanno scoperto l'ingresso di quello che sembrava un bunker abbandonato scavato nella montagna un esame più attento ha confermato che si tratta di un presunto rifugio antiatomico fortificato di epoca sovietico o qualcosa di più il comandante fara karim ha ordinato a un team dell lf guidato da alessio risospite talebani di accedervi questo lo conosco notizie dopo l'ingresso iniziale con l'eccezione di una breve comunicazione in cui notava come i tunnel fossero più larghi ed estesi del previsto ripeto questo è stato il suo primo e unico messaggio dopo l'ingresso poi silenzio assoluto quindi ha inviato dei ricognitori in zona price gas fare la missione trovare alex e il team dell lf ed effettuare una perlustrazione completa della struttura se la sotto c'è qualcuno o qualcosa dobbiamo sapere chi o cosa va bene agli ore della uv o gli scape gli scape o siamo noi eccoli eccoli no no è sa che siamo noi sì siamo uno è lontano cazzo ci entra limo le funi di alex sono in giro e non sono più usciti attenti c'è il piatto ma questi sono i player fuori ciavazzo sono gli amici di fara ci abbiamo i nostri amichetti ci abbiamo comandante movimenti nessuno meglio state qui nessuno deve entrare agli ordini ah no questi restano qua se andiamo controllate quelle funi a posto se non mi sentite non cercatemi neanche scordato le sigarette price ti affido il comando comandante karim forza dopo di te esercente laswell stiamo entrando tieni mia giornata john fara tienili d'occhio come faccio fara tienili d'occhio ok no mi hanno dato la le br io c'ho la pistola muoviamo no tengo price ok ma che cazzo l'abbiamo fatto spariamo insieme in testa ok aspetta aspetta a chi io non ci so ancora sono due sono due sono due sono due uno 3 ci siamo 1 vai mamma mia che precisione 8 1 0 si 8 1 0 no come codice come com'è la mbt aspetta 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 vedi c'è una stanza c'è una stanza con le lettere e un codice dimmi le lettere aspetta brutta si si aspetta allora aspetta con me non funziona provate devi fare tu la prima lettera devi andare tu salvo a farlo ok allora la prima lettera la o la o è la prima lettera la o c'era la y poi la o si si ok 4 4 la y è salvo ma la y non c'è no no la y la w e la e 3 la w era 3 sicuro e poi e la p è 3 3 corretto vedi la y c'è dentro un cazzo e mo manca l'altro 5 e questo è ok 5 lettere allora Sherlock vedi sul monitor rosso che lettere ci sono a b poi c'è tipo i 0 t 0 e r al contrario aspetta allora io altro 7 0 4 7 fatto è andato si è andato è andato è andato è andato 1 1 1 1 1 1 1 1 1 base sovietica occupata da Alcatala madonna nessuna traccia di eco ricevuto dobbiamo capire cosa cerca Alcatala e se collabora con i russi si è aperto qua no seguitelo per lustrazione Alcatala con tecnologia russa promette male watcher ci dobbiamo tuffare benvenuti nel mio mondo dovete usare per usarla RT ok vai salvo prendila tu vai ah fammi te scusa aspetta fammi capire RT però solina vai sott'acqua vai sott'acqua ah ok ok RT però vi dovete fermare ok vi fermate e noi la pigliamo capito? ok andiamo insieme a metà strada vai no un po' di strada prima curva prima curva e vai vai ora bombola vai prendetela vai però dai 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 passa brutale tieni passo io aspetta vai prendetela vai tu vai fermati vai brutale che figata vai vai ok ah bisogna tenere premuto qui vai ragazzi passate no aspetta 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 prima la bombola prima io vai prendetela apri picchiala siete passati si si dobbiamo andare sopra aspetta vai 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 chi ce l'ha la bombola io no qua c'è c'è l'acqua raga c'è l'aria qui c'è l'aria ok ok piano raga che qua possono essere trappole la devo lasciare amici no non mi dà l'arma come si lascia dammela a me aspetta non la posso mettere nello zaino andiamo raga dai dobbiamo andare dobbiamo passare per forza da quel da quel passaggio ma se ci buttiamo una sende bombola qualcosa funziona bombola dalla bruta beh o sta vicini però raga bruta dove sei eh raga mi sono mezzo buggato vado come si è buggato fatto si ciao vai salvo capito dobbiamo usare un po' di dove cazzo era era qui no qua 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 oddio è qui allora prendiamo tutti l'area tieni salvo bombola bombola qua avanti bombola aria c'è l'aria ragazzi ah c'è l'aria si oh sono tunnel di alcatale sapevo dove cercare raga tenete il contatore gaiger no tu bruta si dove è dobbiamo saltare qui di là scusate non è che si va di là no aspetta eh sherlock passa passa sherlock più veloce vai ti è passato si ok aspetta lascia ah qua ci sono le armi ci sono le sandex sono pieno di sandex non so perché pistola c4 ma il coso quel cazzo che ce le dà eh le piastre le piastre non ce le dà molotov ho preso il cazzo ovvio possiamo andare 4 qui dice eh no qui dice raggiungi la serranda questa l'ho attivata una di tre io non so se ora c'è qualcosa no salvo la devi fare salvo viene a premere aspetta ah si si cosa quindi dov'è dov'è brutta che devo premere vai vai vieni cambio caricatore eh merda spendi raga flash bank ci ci sono il c5 ci ci qua eeeh c'è tanto il c5 eh finiti libero controlliamo ma una piastra una piastra ho trovato manco io zero gente salvo vieni 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 fatto grande non mi dite che posso posso prendere qualcosa no la minigun ecco questa porta è chiusa questa porta è chiusa qua che c'è aspetta raga vedete qua che c'è c'è un pulsante sul muro il pulsante il pulsante dove c'è un pulsante sul muro dove è il cazzo pulsante sul muro no ma scusa era qua il pulsante eccolo ecco ok aperto qua merda porca puttana scudo 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 ah è sempre il dagger out fatto no scherzavo fatto sono morti non morirai dove è la minigun libero porta aperta libero porta aperta dove è sempre qua c'è uno scudo qua c'era un prigioniero io lo prendo raga prendetelo può essere utile informazioni non ho più c'ho due termiti ah merda di nuovo l'acqua raga è la bombola aspetta è basso però ah ok che c'è qua che cos'è non ho un rifugio anti atomico sicuro là sotto vedo un movimento non ho più una minigun cos'è oh aspetta fermi fermi c'è un drone chi l'ha ucciso io ah c'è cicchino cazzo tac 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 vai chiama sto tante armi pure i droni ma solo un'arma la posso avere c'è un documento qua raga chiamolo venite oh cazzo quando è lungo sto oh cazzo chi è chi è che mi ha sparato botte botte merda fatto mirino infrarossi grande cazzo enorme documenti per forza qua raga attenzione davanti cazzo non ho più munizioni prendi un'arma a terra vaffanculo vedo un terminale in fondo alla stanza c'è un altro terminale attiva me lo fa attivare attiva in attesa della sequenza in attesa ritrasmettiamo i codici aspetta i codici dobbiamo ritornare dietro ragazzi abbiamo qualcosa da usare per trasmettere la sequenza oh x aspetta salvo fai dire ascendo chiamolo la sequenza la sa lui x x è 7 ok w non ce l'ho m 9 x allora 7 9 n al contrario 4 7 9 4 7 9 4 7 9 4 ok bene prossimo codice 40 secondi e il codice c'è un altro con 10 e w ma facci te certo che io lo potevo far quell'altro ok porca puttana c'è un po' Non ce l'ho No K No M 3 1, 3, A 7 1, 3, 7 Vai 1, 3, 7 Ok Stocca pruta Vai salvo 2, 2, 3, no niente A, E, 2, 2 A, E, 2, 2 B, 1, B, 1 2, 2 1 Sì Io sono morto però ragazzi Aspetta Mamma mia mi sono camperato sott'acqua Dobbiamo andare di là Aspetta Cazzo sente Andiamo Io sono morto raga Andiamo da lui Andiamo da lui Sì arriviamo Arriviamo Scerdo Oppure raga Oppure mi metto qua io Grazie infinite Grazie Vai andate lì Provo a braccarli da qua un po' Usa le più possibile Mina un po' la zona Qua vicino Devo ricaricare Uno a vita Cazzo una mina Ma se stacco questo Arrivano Sì Da dietro Attenzione da dietro Droni Droni Ho preso la minican Raga Ma col cazzo Che vengono Oh cazzo Proprio mi devo pigliarmi Dai venite Bastardi Venite Vai Vigli di puttana Ti squaglio vivo Vai 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 Arrivano droni Eccoli Eccoli Ma che cazzo Ma brutale Tutto posto Io sento Oh cazzo Oh cazzo Aspetta 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 ragazzo Vieni di qua Ho finito Vabbè minican Droni Dai dai Un minuto Un minuto Un minuto Merda Oh Broni Si sta prendendo Stavolta di merda Devo ricaricare Pulito lì 28 secondi 28 secondi Raga Droni 15 secondi Fatti 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 Merda Droni 4 secondi 4 secondi Dai 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 Oh Non si apre Non si apre Raga non si apre Oh le armi C'è un'arma Ah libera Raga dovete premere voi Dovete premere voi Se no non si apre Dove Vai Apri Apri qua Ma dove X X Uff No che devo premere Oh Mamma mia che fatica Questa non finisce Non finisce più Cazzo di davanti Ha lavorato Nottina Bene Farà Sta al centro Gas A sinistra Si Avato Sono cazzo dura Sta cazzo Di torno Un cazzo Metto direttamente Sta parte Domani Dai si Occhio Chi è Fanno i finti morti Sti cazzone Forse è una trappola Eh Tutto ok Sono puliti Ma io non avevo Quell'arma in mano Sono i vostri Ma che Ecco 3-1 Qui Capo chilo Passo Ecco 3-1 Mi ricevi Watcher Qui bravo alla ceca Controllo radio Comunque se finiamo Ci danno una skin operatore Ci danno pure Per l'operatore Gas Ma dovevo finire Per forza Proprio Comunque ci sono 3-4 livelli Da fare Dai Questo è il primo livello Figurati gli altri Minchia Missile sovietico Minchia Minchia Almeno Ci sarà una testata Scopriamolo Yeah No È il secondo livello Quello Cazzo Una stella però Posso andare a dormire Una stella Sì siamo morti Ricompenza a sbloccare Baligetta misteriosa Ottenuta Ricompenza a sbloccare Price grafico A sbloccare